Ciao, eccoci qua, rezzato? No, assamos, plataniotico nero, la fonte sotto questo bellissimo platano. Mani così e faremo, apro, incrocio il sinistro, che è quello blu, quello destro, riparto, questo è quello destro che ha. Allora, apro il destro, incrocio il sinistro due volte, doppio, incrocio dietro, apro due volte il destro, doppio, di lato, e per ultimo, col sinistro, quello blu, due doppi, cioè un doppio per andare al centro. Rifaccio tutto di seguito, apro, dietro, dietro, apro, apro, centro, centro, punto, apro, dietro, dietro, apro, centro, centro, punto. Apro, dietro, dietro, apro, apro, centro, centro, punto. Invece che apro facciamo appoggio, che forse è più chiaro. Appoggio, dietro, dietro, apro, apro, centro, centro, punto. Appoggio, dietro, dietro, apro, apro, centro, centro, punto. Un pochettino più veloce però, eh? Immaginando di essere con tutti i miei amici, le miei amici, le miei canzze greche, proviamoci. Buota, GIS, le miei amici, le miei amici, le miei amici e etc. Grazie a tutti i miei amici, le miei amici e vengono sık i amici. Grazie a tutti i coloni, grazie a tutti i coloni, grazie a tutti i coloni. Grazie a tutti. Grazie a tutti.